Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi, ascoltando il consiglio di uno di voi, perché io meno male leggo tutti i commenti, porto ancora una volta Death Stranding completamente alla cieca, nel senso che sto iniziando un pochino ad apprezzarne e comprenderne le meccaniche, ma la missione di oggi è abbastanza particolare perché è abbastanza lunga, devo completarla entro 30 minuti e si tratta di andare da questa zona qui, che avete già visto sicuramente nei gameplay di Mirko, attraversare tutto e tornare alla città iniziale. Ma, entro 30 minuti, ma trasportando quella cassa che vedete lì in cima, che è una cassa ventilata contenente Crypto Bionti, ed essendo una cassa con forme di vita e ventilata, non può entrare nell'acqua, ma useremo in supporto la moto che ho sbloccato, che ho caricato, insomma è una moto che non so fino a quando avrò disponibile, però cercheremo di fare questo viaggio, che sarà senz'altro difficile, perché attraverseremo poco più avanti questa zona gialla, che è la zona dei muli, è una zona dove ci sono gli NPC. Io ho appena fatto una missione, ignorando completamente la cosa, perché non lo sapevo, in realtà il gioco me l'aveva già detto in precedenza, le avevo già visti, e quindi sono stato inseguito, e questa esperienza mi ha fatto comunque capire che il parere che molti hanno dato sulla IA veramente scarsa è vero. Sicuramente aiuta anche il fatto che sto giocando difficoltà normale, non difficile, non difficilissimo, però insomma, mi è venuto comodo perché sono riuscito a fronteggiarli agilmente, nonostante avessero uno scudo, sono riuscito a farlo, ad affrontarli e sconfiggerli tranquillamente. Però insomma avrei dovuto farla più stelta. Ovviamente è un gioco che non dovete prendere con la frenesia di completare, di far tutto in fretta, ma ci sono alcuni punti in cui non potete permettervi di andare funky, di andare veloci, ma dovete andare con attenzione, con il giusto equipaggiamento. Infatti l'errore che io probabilmente sto andando a fare è di non aver calcolato quante attraversate devo fare nella parte finale del percorso, quindi non mi sono fatto scale apposta, ho giusto cambiato le scarpe perché erano parecchio consumate, le ho smaltite e ne ho fatte delle altre. La moto in basso a sinistra vedete che c'è un indicatore di carica perché è una moto elettrica, quindi potete mettere il turbo, però in questo caso andate a consumare di più. Ora, a breve, speriamo di sopravvivere. No, siamo già all'interno ma non ci stanno rompendo le palle, quindi ci è andata bene. Probabilmente il gioco tiene conto del fatto che le abbiamo già spianate prima, diciamo i muli che erano di là, là c'è un accampamento, vedete che ci sono la dei fai, insomma. Adesso speriamo di non incontrare delle CA perché le CA, io adesso ho preso le granate, non so minimamente come lanciarle, però, oh, molto interessante perché io questo tizio qui voglio ringraziarlo perché ci ha piazzato una piattaforma di ricarica della moto, quindi adesso io vado col tasto UBUBUBUBUA c'è anche uno spray per riparare le casse a patto che non siano danneggiate all'interno. No, devo mettere il mi piace. Io clicco. Questo, probabilmente sentiamo questa voce perché qua in questa zona c'è un giocatore nella sua partita sincrona, ben inteso. Vabbè, intanto abbiamo caricato la moto, quindi torniamo indietro. Ovviamente non la potremmo usare tutta, io non vedo l'ora di affrontare la zona che mi hanno detto in molti essere in una zona difficile che è la zona sulle montagne, con il vento, le tempeste, non vedo l'ora, davvero. Perché io quello, l'ho già detto probabilmente, quello che ho sempre apprezzato, questo non è un gioco di ruolo, però quello che ho sempre apprezzato nei giochi di ruolo e su cui si è sempre focalizzato poco, sono i viaggi. Anche i giochi da tavolo, quelli, diciamo, Dungeons & Dragons, Pathfinder. Il viaggio viene sempre saltato, il viaggio è figo. Il viaggio io l'ho apprezzato in quello che è il viaggio del Signore degli Anelli con gli Hobbit che prendono, vanno nel libro, vende ancora di più, lo pesa molto di più il viaggio rispetto al film, insomma. E qua è figo, a parte la musica che parte e poi mi bannano, però si va in completa solitudine, ci si guarda il viaggio. Io me lo prendo a pillone questo gioco perché entro, voglio dedicare un'oretta, mi faccio una missioncina, mi metto lì, finisco prima, insomma, mi metto a guardare l'equipaggiamento, vado nell'alloggio, faccio la doccia, con la doccia si recuperano fluidi corporei con cui possono, dal centro di comando, realizzarmi delle armi. Ora, vediamo se riesco ad affrontarla con la moto. Vediamo un po'. Sì, direi di sì. Però, il problema è che qua non riusciamo a salire. Devo impennare. Saltare, ok. Vediamo. La missione è andata fin troppo bene, fin troppo tranquilla. Mi puzza sta cosa. Però, attraversata, io avrei dovuto andare qui e calcolare quante dovevo farne. Magari se venivo a piedi, ne dovevo fare una, due, tre. Questa dovrebbe essere la peggiore di attraversata, ma se si tocca, perché no? La moto non vorrei mai buttarla via. No, ce l'abbiamo fatta. Incredibile. La moto mi sta aiutando molto. Mi domando quanto la potrò usare, per quanto tempo, perché ci saranno mezze anche a un motore, insomma, coperti, delle macchine. Però non lo so. Vedremo. Vedremo poi che cosa succederà. Sicuramente il collante di questo gioco è il fatto che andando avanti si sbloccano sempre più gadget. Non mi sarei mai aspettato di tornare qui. Dobbiamo consegnare di qua, giustamente. Non c'è una postazione di ricarica, vabbè, quello... Anche perché poi la strada che abbiamo fatto tornare indietro la dobbiamo fare tornare indietro di nuovo, quindi... Poi il generatore, diciamo, di energia della moto si può craftare, ovviamente, usando quelle componenti che abbiamo attaccato alle braccia, che sono dei kit di costruzione, ma chi di voi si intende del gioco, insomma, l'avrà già visto. Sì, certo. Effetto, la consegna. Eccole lì, intatti, perfetti. Vediamo che valutazione ci dà. Mi aspetto almeno un S perché siamo stati veramente velocissimi. Però mi piace questa cosa che non si vede mai la gente. Questo è un espediente geniale. Cioè, sono tutti nella città sottoterra o chissà dove. E quindi parliamo solo con loro che comunicano con noi con gli ologrammi che abbiamo imparato sin dall'inizio del gioco ad apprezzare. Per 6 minuti rispetto ai 30, direi che un tempo... Ci avrei messo probabilmente 20 minuti a piedi, se non di più. Invece, vedete, siamo andati. Abbiamo fatto praticamente quasi 3 chilometri. Non abbiamo immerso nell'acqua. Abbiamo sbloccato la... S, perfetto. Nuova intervista. Ora vi faccio vedere cosa ho capito rispetto al gioco. Quindi, quello che potete fare. Ora, vabbè, mi piglio la mia valutazione. Livello fattorino 40. Però vedete che quello 0 mi fa intendere che raggiungeremo il livello 1000 prima o poi. Il tempo di consegno è il livello 10. Ora ti stancherai meno. Perfetto. Mi piacciono molto anche questi perk che ci danno dei vantaggi concreti. E ogni tanto ci regalano qualcosa. Infatti a me hanno regalato gli occhiali di Gordon, che è quello di Half-Life. E ora mi danno il cappellino della Bridges. Sì, bello. Interessante. Nicky Stone. Ok, questi Nicky Stone e gli altri sono dei PNG che all'inizio gioco ci fanno trovare già delle strutture costruite da loro e mi piace li diamo a loro, non ai giocatori. I giocatori li distinguiamo perché vediamo proprio il nickname. E sono inconfondibili quelli. Arrivederci. Dobbiamo andare al Portknot City adesso per completare la prima zona, il primo capitolo credo. Sono 15 capitoli, da quello che mi ha detto un amico è un gioco parecchio lungo. Non mi dispiace perché il fatto che tutta la storia sia unita dalle meccaniche perciò diverse e ripetitive, ma con delle differenze, l'ambiente che cambia, i mezzi che abbiamo in più, lo trovo geniale. Mi prende di più rispetto ad altri giochi. Dobbiamo annettare il Portknot City, quello che ho detto, alle UCA, che poi dillo UCA, che suona meglio di UCA, comunque vabbè. Va bene. Perfetto. Qua possiamo accettare un altro incarico. Ora vi faccio vedere quello che io ho appreso, diciamo, da... Allora, prima di tutto, col nostro menu possiamo andare nella posta e leggere tutte le comunicazioni di Benjamin, Nick, che sono tutti PNG che, diciamo, ci comunicano all'inizio. Nella sezione dati è importante perché qua vediamo i consigli di gioco, ma soprattutto ci sblocca le interviste che possiamo andare a leggere. Ci vuole pazienza, però, ci fa comprendere tutto della storia. Io ovviamente devo ancora leggerle, ma mi metterò le prima o poi e me le leggerò. Poi, vabbè, ci sono le richieste riprovviste da altri corrieri. Possiamo creare una richiesta per farcele recapitare da altri in asincrono. Il bridge link, praticamente, possiamo vedere i giocatori con cui abbiamo interagito. Anche qui devo capire un pochino come funziona, ma magari sarà possibile comunicare con altra gente. Da quello che ho visto non si può con la lista Amici Steam, quindi, va bene. Vi faccio vedere adesso qua sul terminale più o meno come... Sì, qua sta completando la storia, tanto adesso ci sorbiremo il dialogo. Ok. Ok, si va a Port Not City, quindi adesso andiamo a attraversare la regione completamente da parte a parte. Mi danno delle armi? Vedete già qua il gameplay cambia. No, le devo portare io, poi probabilmente me ne daranno una, immagino, se capisco la meccanica di Kojima. Sbagliati, ok... Ok, tristezza della diversità genetica, mamma mia. Il chiraneo, cosa... Ok, collega il cupid, ok. Perfetto, e passeremo un altro capitolo, immagino. Poi andremo verso Lake North City. Ok, mi sta anticipando tutto quello che dobbiamo fare. Dove attraversare il lago. Bello, mi piace, mi piace. Descritta così mi fanno impazzire queste cose, tipo, dovrei scalare la montagna, un po' come mi piace da morire il viaggio attraverso Moria, del Signore dell'Ene, insomma. Ecco. Allora, vi faccio vedere un attimino che cosa si può fare. Allora, in pratica, quando noi siamo all'interno del terminale, qua accettiamo gli ordini, qua accettiamo una sorta di... Vedete qua, ci sono ordini standard, le secondarie, le primarie, di missioni. Effetto consegna, consegniamo quello che abbiamo, se stiamo completando missioni o missioni di consegna. Per ottenere materiali possiamo andare a prenderci dei materiali dalle strutture che stiamo visitando. Ogni struttura ha il suo deposito. Mentre ricicla, possiamo scegliere quali dei materiali... Vedete che in questo caso io ho selezionato delle resine. Io posso destinare queste resine e riciclarle. Queste resine, una volta riciclate, verranno consegnate lì, ma in realtà qua mi dice che non posso consegnarle. Perché? Ogni cosa che noi ricicliamo genera dei materiali che vanno nel deposito di questa città. Questa città ha un deposito limitato. Poi, su fabbrica e attrezzatura, possiamo andare a fabbricare usando cristalli chirali, resine e metalli, che abbiamo riciclato in quella città. E quindi utilizzare quel monte di oggetti. Io credo, ma non ne sono sicuro e chiedo anche a voi il conferma, che siano comuni con altri giocatori. Quindi se arrivano 100 giocatori che buttano via tutto, la città non avrà più materiali. Io ipotizzo sia così. Possiamo creare appunto la scala, il credo d'arrampicata, il CCP che ci permette di creare strutture come la torre d'osservazione, il ponte, il generatore elettrico per fare, diciamo, carburante elettrico alla moto, e così via. Lo spray per riparare le casse, e poi vabbè l'attrezzatura, al momento abbiamo solo gli stivali della Bridges. Riposare nella stanza privata, dove possiamo appunto lavarci, riposare, rigenerare il rigore, riempire la fiaschetta di monster, in modo che possiamo bere. Abbiamo l'arma diretto privato, che possiamo usare per depositare roba, al momento non ci dentro niente, possiamo depositarci un po' di roba. Onestamente non so se sia comune a tutti, o solo in quella città, però questa cosa probabilmente è solo della città, e se fosse così mi fa pensare che comunque noi, anche se andremo lontanissimo, torneremo qua un giorno, o questo vago il sospetto. L'arma diretto condiviso invece ci permette di depositare roba accessibile poi ad altri giocatori. Ora qua mi dicono che è stato depositato qualcosa a nome mio, prendo il carico, vediamo gli altri giocatori che cosa mi hanno donato. Carico per sé niente? Cioè non c'è niente. Cosa dici? Donarmi e attrezzature, posso donare delle resine ad altri giocatori. Prenderò i mi piace. E altri giocatori potranno attingerne. Io a mia volta posso entrare e prendere una scala da qualcuno, uno spray, un carico smarito di qualcuno da consegnare, magari possiamo andare a cercare se c'è qualcosa che va a port not city, in modo da, vediamo, è anche danneggiata la cassa, consegna a stazioni secondarie, stazioni secondarie. La cosa che forse mi piace meno è il fatto che il gioco, però poi è anche giustificata, che il gioco non mi mette in questo armadio oggetti che io non ho ancora sbloccato, quindi una pistola, piuttosto che un mezzo di un certo tipo, quindi non lo so. Basta. Il garage io non ho ancora avuto modo perché non ho messo nulla in garage, metterò e personalizzerò i mezzi in futuro. Ora voglio provare a vedere se riesco a metterlo, ah posso aprire anche il menu di carico della moto, tenendo premuto, mentre invece così, vediamo se riesco a metterla in garage. Vediamo. Ma non credo perché, i veicoli per generare possono depositare garage al terminale del consegno. Ok, perfetto, proviamo anche questa cosa, così vediamo come funziona. Garage, si è abilitato. Mettiamo la moto. Deposita veicolo. In garage, conferma. Posso fargli delle modifiche, allora. Perché non so se lasciandola fuori me la ritrovo sempre o la può usare qualche altro giocatore. Vabbè, intanto voglio provare a vedere se si riesce a modificare qualcosa della moto, giusto per chiarirmi l'ultimo dubbio che ho su questo gioco. Allora, recupera. No, non posso. Ah, in acqua accelera il consumo della batteria, non lo sapevo. Vabbè, intanto ce l'ho lì. Garage online. Ok, posso anche metterlo nel garage online. E quindi, se qualcuno deposita qualcosa qui, lo posso usare. Ah, ok, ma chi è così scemo da farlo? O magari in futuro sarà necessario, non lo so. Affida carico in consegna, non ancora fatto. Niente, questo è quello che è il menu del terminale. Io concludo qui, spero di aver chiarito ulteriori dubbi. Abbiamo visto la missione completata velocissimamente con una moto, ma ovviamente è l'inizio. Più avanti diventerà molto, molto, molto più complicato. Ora, il viaggio che dobbiamo fare è da qui a qua sotto e poi sbloccheremo nuove zone, andremo in un nuovo capitolo del gioco, a Lake City, insomma, quello che è. E ci saranno altri panorami, altre zone, altre difficoltà da affrontare con altri gadget. Fatemi sapere, come sempre, cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!